Nel giorno dell'anniversario della liberazione d'Italia, 25 aprile, festa di San Marco, i cittadini di Casal di Principe inaugurano la nuova riapertura dello stadio Angelo Scalzone che si presenta nel suo nuovo look di rifacimento della pista di atletica e del manto in erba sintetica di ultima generazione. Fine dei lavori che hanno visto impegnare risorse per un milione di euro ricevuto con un prestito dal fondo del credito sportivo. Un percorso giunto all'epilogo quello di oggi che ha visto proprio dal 2014 nel primo mandato dell'attuale sindaco Natale la volontà di rimettere in moto la struttura per anni abbandonata e depredata di ogni suo bene. Certo le stadie verrà aperto o meglio verrà riaperto non dimentichiamo che abbiamo avuto due fasi per questo stadio. Una prima fase nel 2014 abbiamo dovuto recuperare la legibilità perché era ormai invaso da erbacce di tutti i tipi. Abbiamo fatto un'operazione straordinaria grazie all'impegno anche dell'assessore dell'epoca da allora, il coronel, il punto dico coronel, e abbiamo continuato facendo in modo tale che il campo fosse disponibile per la città. Più di mille persone erano iscritte a correre sulla pista. Poi è chiaro ed evidente che bisogna fare un salto di qualità, bisogna andare avanti e questo è avvenuto con quest'altra consigliatura, con l'altro assessore allo sport, Antonio Schiavone, che si è impegnato in modo straordinario insieme a tanti altri consiglieri comunali, il presidente del consulto dello sport, Zoppi, e si è portato avanti questo progetto finalmente nel dicembre, lo stavamo ricordando prima, il 31 dicembre del 2019, abbiamo aspettato fino ad ora tardi che fosse fatta la credito, del credito sportivo perché altrimenti se andavamo al 1 gennaio si trattava di fare tempi ancora più lunghi. E ci siamo riusciti in poco più di un anno, anche considerando che c'è stata tutta l'emergenza Covid, sono state bloccate i cantieri, sono state dovute una serie di ritardi, alla fine ci siamo riusciti. Quasi non sembra vero, quasi sembra un miracolo, ma guardare questo spettacolo è qualcosa che fa bene al cuore. Il Signore ci ha regalato anche una bellissima giornata di sole, è il 25 aprile, il giorno della liberazione, non c'era una data migliore per poter dare vita a quello che è un po' il simbolo del nostro riscatto e della nostra liberazione. Presenti a quest'inaugurazione, la terza in ordine di ogni grande intervento di lavori eseguiti in questi anni, l'onorevole Spadafora, già ministro allo sport del governo Conte, il presidente Zingarelli del comitato regionale VCG, De Simone del CONI provinciale, Ranieri dell'istituto credito sportivo e altri rappresentanti dei vari enti sportivi e non che a vario titolo hanno contribuito a questo intervento importante e significativo per fare sport sicuro in terra casalese. Presenti anche la famiglia Scalzone. Particolarmente emozionato l'assessore allo sport e politica e giovanile del comune di Casal di Principe, Antonio Schiavone, che ai nostri microfoni esprime tutta la sua soddisfazione per l'obiettivo finalmente raggiunto. Finalmente ci siamo, lo stadio Angelo Scalzone finalmente potrà essere inaugurato oggi in questa giornata con uno splendido sole e dopo tanti lavori, tanta passione e tanti sacrifici possiamo inaugurare questa struttura che diventerà sicuramente, come io credo, il fiore all'occhiello di tutta la provincia di Caserta. Ci abbiamo messo tanto lavoro e devo ringraziare per questo il sindaco, tutta l'amministrazione comunale, i tecnici comunali e tutte le persone diciamo che hanno svolto con grande serietà il lavoro. Ci siamo riusciti in tempi record, meno di un anno dall'inizio dei lavori, il cantiere era cominciato a giugno, abbiamo finito ad aprile, quindi posso affermare con forza che Casal di Principe rinasce con lo sport e rinasce con il nuovo stadio Angelo Scalzone. Un giorno baciato dal sole ma non appieno nella sua completezza in presenze, un numero ristretto di partecipanti ha presenziato il rispetto all'applicazione delle norme anti-covid, ma che non ha fatto mancare le rappresentanze delle varie società sportive che usufruiranno della struttura e nel ringraziare il primo cittadino e l'assessore con la consegna delle loro divise agonistiche. L'inno nazionale accompagna un taglio di nastro particolare che ridona alla collettività tutta uno spazio di grande importanza sociale, sportiva ed immagine. Un taglio di nastro che mette la struttura Angelo Scalzone tra le migliori dell'intera provincia di terra di lavoro, un taglio di nastro che ai cittadini da mercoledì 28 aprile ridarà un'aria per poter praticare sano sport.